A tu per tu ospita Claudio Civettini, consigliere provinciale della Lega Nord, che salutiamo, grazie Civettini di essere qui con noi. Buonasera a tutti. Allora, 5 minuti dedicati al consigliere Civettini, consigliere del Carroccio, dicevamo, allora 5 minuti per capire anche che percorso politico ha fatto. Claudio Civettini, che percorso politico ha fatto lei? Si parla tanto di bisogno di tornare a una politica che costruisce le persone e non le improvvisa lei che percorso politico ha fatto. Ma io, sin da studente, ho sempre, come dire, parteggiato e partecipato alla vita politica da quando avevo 14 anni, tanto per essere chiaro. Poi, man mano, sempre nel volontariato, sono arrivato ad essere consigliere circoscrizionale a Borgosacco, il mio paese che ho vissuto per 50 anni, più o meno, e poi, nel successivo passaggio, tre legislature nel Consiglio Comunale di Rovereto. Dopodiché, essendomi trasferito a Mori, ho candidato a Mori, fui eletto e divenne il Presidente del Consiglio. Questo è il percorso. Dopodiché, nel 2008, candidato sempre per la Lega Nord, è eletto in Consiglio Provinciale e chiaramente ho abbandonato il Consiglio Comunale di Mori. Ecco, per chiudere questo capitolo, è vero che il Consiglio Provinciale ha potestà legislativa e non amministrativa come i Comuni. Differenze di lavoro? Ma, a differenza di lavoro sostanziale, soddisfazioni maggiori nei Consigli Comunali, perché lì si toccano i problemi, cui spesso però non si possono dare risposte. Nel Consiglio Provinciale e nel Consiglio Regionale i problemi si affrontano dal punto di vista legislativo e si tenta di portare risposte, perciò è importantissima l'esperienza dal punto di vista amministrativo. Ecco, Civatini, lei è il record man delle interrogazioni. Da cosa le deriva questo primato? Da un contatto stretto col territorio? Ma è fondamentale. Io vivo veramente in modo importante il territorio. Io faccio molti chilometri, giro tutto il Trentino, almeno una volta ogni 40 giorni, il mio circuito, o i miei punti di riferimento, o chi mi segnala anomalie, situazioni e percorsi. L'anomalia più strana che ha trovato qual è stata? Ma guardi, l'anomalia più strana è sempre nel mondo del lavoro. Noi vediamo, abbiamo peraltro appurato un sistema che non mi permetto di definire perché potrei anche prendermi una querela nonostante lo possa provare, però nel settore del lavoro c'è un sommerso stranissimo che si appoggia alla politica per trovare soluzione, ebbene, o meglio, agli uomini politici. Io credo invece che non si debba fare questo percorso e credo che sia la politica, le scelte dal punto di vista legislativo che devono dare risposte agli operatori economici affinché possano dar lavoro e dar sfogo alla necessità di lavoro. Questo è il passaggio. Altro tema che lei sta a cuore è quello dà la voce a chi voce non ce n'ha, così si definisce. Ma in effetti io so che io ho dato voce, per esempio ho iniziato un percorso, ad esempio, per le neolaureate in scienze dell'educazione, per poter accedere al posto di educatrici all'interno dei nidi. E' uno degli esempi, ma poi sono innumerevoli anche dal punto di vista sociale le mie attenzioni alla situazione di chi non ha voce. Perché? Perché ritengo che chi governa ha il diritto, dovere di governare. Chi fa opposizione, e io svolgo il ruolo dell'opposizione sia nella passata legislatura, sia nella corrente legislatura, ebbene credo io abbia, insieme a tutti i miei colleghi, il diritto, dovere di attuare il controllo. E perciò attraverso questi meccanismi le tante interrogazioni per chiedere, per illuminare, per dare risposte ai cittadini che non ne hanno. C'è qualche situazione che ha contribuito a risolvere positivamente? Ma sicuramente sì. Stiamo, per esempio, tante piccole situazioni, parlo nel mondo del lavoro, parlo nel punto di vista del sociale, parlo delle situazioni ospedaliere, sulle quali noi, come Lega Nord, io in particolare mi sono ripetutamente distinto, ecco, e a fronte di questo ci sono le soddisfazioni, perché poi io non conto i voti, o meglio, non creo atti ispettivi in base a chi me li segnale, in base ai voti che mi danno. Io credo che il ruolo che noi dobbiamo svolgere è quello di saper attivare un percorso di trasparenza a tutti i livelli. E trasparenza vuol dire anche far conoscere ai cittadini quali sono i meccanismi per accedere alle istituzioni. Ecco, Civettini, uno dei cavalli di battaglia, o meglio, filo conduttore della Lega Nord, anche a livello nazionale, è stato il federalismo. Il federalismo che però ha sottolineato, purtroppo, una ruberia, uno sperpero nelle regioni. Perché si è arrivati a questo brutto traguardo? Beh, direi che è improprio e inesatto. Non è il federalismo che ha comportato, come dire, le ruberie. È un regionalismo mal applicato. Perché il regionalismo che fa parte di un nazionalismo o di una nazione che ormai è superata probabilmente non ha e non aveva le risposte adeguate. Il federalismo, quello vero, quello che noi abbiamo sempre proposto, è stato boicottato, ricordo il grande tradimento di Fini, nel momento in cui si doveva applicare. Una per tutti. L'adeguamento ai costi standard, per esempio, nella sanità, porterebbe a un grosso risparmio. Ma non è col centralismo romano che si controlla i meccanismi dei costi standard, ma è proprio con la capacità di assumersi responsabilità a livello locale. Mi permetto di dire, la nostra autonomia ne è un esempio. Noi dobbiamo correggere i meccanismi, ma però la nostra autonomia è un esempio che non fa parte di un regionalismo che genera sperpero, ma fa parte di un sistema di autogoverno dei cittadini, dei popoli e soprattutto delle genti. Questo è un modello che noi dovremmo avere la capacità di comunicare e fare esportare. Autonomia in pericolo? Autonomia fortemente in pericolo per l'impreparazione e soprattutto per i piccoli interessi di chi insieme a noi sta oggi governando la regione. Ricordo l'Alto Adige, il Sud Tirol, che obiettivamente ha fatto bene i suoi interessi. Chi ha governato il Trentino gli ha fatto molto male, tant'è che noi vediamo quanti saltimbanchi ci sono a livello romano di quei politici che hanno predicato autonomia ma hanno pensato di correre a Roma velocemente. Noi ringraziamo Claudio Civettini, consigliere provinciale della Lega Nord, per le sue parole e ci rivediamo a un'altra puntata di A Tu Per Tu. Grazie Civettini. Grazie a tutti voi e io sempre sono a vostra disposizione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.